Di fronte a questa crisi sociale e geopolitica, la risposta dei governi è «Cara Italia, sono affari tuoi e li devi fare da sola». Mi chiedo se davvero abbiamo senso continuare in questa posizione, come far parte dell'Unione Europea, un'istituzione che si attiva subito per salvare le banche, per dichiarare guerra, ma quando c'è da esprimere solidarietà concretamente ad un paese in difficoltà come oggi è l'Italia, si nasconde. Il Presidente Napolitano ha sostanzialmente detto che con l'Europa non si scherza, lei continua a sostenere la posizione che bisogna uscire dall'Europa? Certo che con l'Europa non si scherza, ma quando l'Italia chiede aiuto per i rimpatri, per i pattugliamenti, per bloccare i flussi, per fare investimenti in Tunisia e la risposta dell'Europa è «Cara Italia, devi pensarci tu perché la Tunisia è vicina all'Italia», mi pare che qualcosa non funzioni. Mi pare che se la risposta dell'Europa è questa, francamente, meglio soli che male accompagnati.